Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come vedere tutte le tue password che hai salvato sul tuo account Google quindi in questo caso se tu vai su Google Chrome e vai sul tuo logo qua sopra in alto a destra su Chrome, ci clicchi sopra e qui puoi vedere le tue password, tutte le tue password di Google oppure se vai su gestisci il tuo account Google, vai su sicurezza, scendi fino a giù fino a trovare le tue password salvate, gestore delle password ed eccole qua, tutte le password che hai salvato sul tuo account Google cerchi così il sito web e automaticamente ti troverà il sito dove tu hai salvato la password quando hai creato un account se in questo caso non ti ricordi la tua password puoi vederla direttamente sul tuo account Google però mi raccomando fai attenzione a come proteggi le tue password è tutto quindi se è stato utilissimo questo video su come vedere tutte le tue password salvate sul tuo account Google iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao